Buongiorno, sono Giorgia, sono venuta in questa clinica barchitta, mandata, consigliata dai miei genitori, i quali hanno fatto a loro volta un lavoro molto importante e io a mia volta ho fatto un circolare in zirconia plus, arcata superiore e inferiore. Questo che vedete è il risultato in pochissimi mesi, sono contentissima, sono fiera, mi sono trovata molto bene, non è stato neanche un lavoro lungo e neanche tanto doloroso, per cui lo posso consigliare vivamente, soprattutto per il risultato che ho ottenuto, mi sento molto sicura di me stessa e mi sento molto bene perché adesso ho la sicurezza di avere una bocca sana oltre che bella. Volevo anche ringraziare con l'occasione tutto lo staff della clinica barchitta, in primis il dottor Claudio, ma anche proprio la sua equip, Sabrina, Valentina, Barbara, adesso non ricordo tutti i nomi, ma tutte, tutte e tutte quante. Per la loro cortesia, per la loro professionalità, per la loro disponibilità, perché non sarei riuscita veramente a portare a termine questo grande lavoro. Per cui un grazie di cuore e mi avete fatto rinascere. Grazie.